Le condizioni ambientali mettono a dura prova le capacità di adattamento delle piante e l'alternanza delle stagioni le induce ad assumere strategie specializzate e comportamenti diversificati ai fini della sopravvivenza delle specie. Tutto ciò si riflette sui caratteri morfologici che dunque esprimono l'adattamento ecologico delle diverse specie ai fattori ambientali. Così ad esempio quando sopraggiungono i rigori dell'inverno alcune piante affidano la ripresa vegetativa ai loro semi resistenti caratteristica che identifica il gruppo delle terofite. Le geofite invece superano le avversità della stagione fredda custodendo nel sottoterra i rizomi o i bulbi mentre le emicriptofite proteggono le future gemme con le foglie. Del resto la varietà dei comportamenti e quindi dei caratteri morfologici non si manifesta solo nella diversa conduzione dei cicli vitali delle piante ma anche attraverso la capacità di affrontare gli innumerevoli stress ambientali attivando delle vere e proprie strategie di adattamento. La ninfea bianca ad esempio dispone di steli lunghi ed elastici che le consentono di adattarsi alle variazioni del livello dell'acqua in modo tale che le ampie e lucide foglie possano sempre galleggiare. La cannuccia palustre è provvista di fusti cavi dotati di robusti nodi che le permettono di flettersi agevolmente quando è sottoposta all'azione del vento. I peli fitti e lanosi del verbasco consentono a questa specie di affrontare l'aridità resistendo alla forte evaporazione e limitando le perdite d'acqua. Le foglie minuscole e carnose della salicornia raccolte attorno al fusto succulento assicurano alla pianta l'acqua necessaria riducendo la superficie esposta all'aria ed evitando l'eccessiva evaporazione a cui è sottoposta lungo le spiagge. Le formazioni basse e compatte consentono alla silene a cuscinetto e alla sassifraga incrostata di difendersi in modo solidale dagli stress tipici delle altitudini come le forti escursioni termiche giornaliere che soprattutto nella stagione estiva le sottopongono prima abbrinate mattutine e poi ad intense esposizioni solari. I molteplici comportamenti e le diversità morfologiche costituiscono pertanto quelle soluzioni indispensabili alla salvaguardia e dalla sopravvivenza delle varie specie che inesorabilmente sono sottoposte ai ritmi scanditi da nostra madre terra.